Bene Orieta, buonasera siamo finalmente sulla ciclabile di Limone, ecco qua, bellissima, spettacolare, sospesa, lì in fondo c'è Riva del Garda, dove? Mamma mia, vertigini. Guardala, picco, picco, è molto bella però. Ci dica la sua impressione, come è andata? Un po' di fatica a salire. A salire sì, però ne vale la pena. Vale la pena, bellissimo, bello, 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 bello. Le gambe come vanno? No, non c'è un problema sai, solo che devo scendere dalla bici per fare la salita. Sì, ma anche perché guarda che bici abbiamo. Bellissima. Sì, sono belle però hanno la ruota piccola, non sono mountain bike. Bene. Ecco, guarda che meraviglia. Meraviglioso. Vabbè, dai. Bene, come dice il proverbio, il mondo... Non so se arriviamo a Riva del Garda, non credo. No, non ci arriviamo, no. Non ci arriviamo, vivi no. Dopo c'è la strada pericolosa. Vivi no. Bene, come dice il proverbio, il mondo... È fatto a scale. Brava. C'è chi scende. E c'è chi? E c'è chi sale. E c'è chi sale. Bravissima. E con questa perla di saggezza. E la bargelletta del limone? Dopo, dopo, una cosa alla volta. Dopo, dopo, più tardi. Ma dopo ve la dimentico. Appunto, per questo, dopo. Bene, dalla pista ciclabile di Limone del Garda, per il momento è tutto, passiamo... Passo e chiudo. Sì, sì. Ciao. Arrivederci ancora, ciao. Ciao. Ciao.